Grazie, che bella accoglienza, si vede che non avete idea di che cosa vi devo dire. Allora, come detto io sono Simone e mi occupo di accessibilità web. Se non sapete che cos'è l'accessibilità web non è un problema, ve lo spiego nei prossimi minuti. Allora, io ho questa particolarità che sono ipovedente e se vi dovessi dire grosso modo come ci vedo, perché questa è una domanda che meno male mi hanno quasi fatto tutti, dovete un po' pensare che è come se io guardassi attraverso il buco di una serratura. Ed è notte e c'è il vento e mi sono appena fregato gli occhi dopo aver cambiato la lettiera del gatto. Quindi, questo è grosso modo come io ci vedo. Riende l'idea? Ok. Quindi, non posso usare la vista per usare il computer. Infatti, io non ho idea di che cosa ci sia sullo schermo. Se sono le mie slide, se sono altre cose, dedurrò da quello che... Ah, ok. Perfetto, la mia sintesi vocale. Ok, non posso utilizzare la vista. Come faccio? Utilizzo uno screen reader. Se ne... Ce l'hai? Adesso, dopo faccio una parola. Anzi, la faccio subito. Vediamo se la tecnologia è veramente accessibile. Siamo andati avanti? Ecco, grandioso. Oh, fantastico. Allora, sì, non è molto accessibile. In compenso, io farò un talk accessibile, va bene? È accessibile a tutti. Non serve avere conoscenze specifiche. Sono un programmatore, è vero, ma oggi vi parlerò unicamente di accessibilità. Vi parlerò di questo argomento perché ci tengo a... che passi questo, come dire, questo concetto che l'accessibilità serve a tutti. L'accessibilità è un'opportunità per tutti. E se voi non curate l'accessibilità nelle vostre pagine web, state perdendo un'opportunità come web designer, come designer, come sviluppatori e anche come chi, per esempio, popola i siti web di contenuti. Quindi, allora, quasi quasi, adesso vi faccio sentire com'è la mia sintesi vocale. Perché, così, mi va di complicare un attimo le cose. Hai il microfono? Vai. Utilizzo quella del telefono perché quella del computer è un po' metallica, non si capisce molto bene. E poi soprattutto parla troppo velocemente. Qui sotto. Riuscite a capire qualcosa? Ecco. Questo perché la voce legge velocissima, in realtà questa è anche un po' lenta. Io uso quella del computer molto più veloce perché devo sopperire alla mancanza della vista. Voi con la vista potete fare, lo chiamano movimento AL. Potete scansionare una pagina e il vostro cervello individua automaticamente quali sono i contenuti che più vi interessano. Io invece me li devo leggere tutti. E quindi come faccio? Beh, prima di tutto navigo un sito utilizzando solo la tastiera, non posso usare il mouse. Quindi la prima domanda, la prima informazione che potreste trovare utile di questo talk è il vostro sito è accessibile utilizzando unicamente la tastiera? Questa è una domanda che rispondete, che non serve una risposta. Cioè, è una delle cose, delle linee guida che dice, appunto, che le persone che non possono usare il mouse, per esempio, o perché non vedono il puntatore, o perché non hanno le mani o non le possono usare per sfruttare il mouse, dice. Quindi cercherò di, sì, di andare avanti. Cos'è apparso? Come strumenti utili. L'ultima slide questa, com'è? Fantastico. Esatto, vi sto spiegando. Mi, 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 torni indietro. Ok. Grazie. A questo punto vai avanti te. Che cos'è l'accessibilità? Allora, sapete tutti che cos'è l'accessibilità? Dai, datemi un... Io non vi vedo, se alzate la mano... Ok. Ok. Faccio, riformulo la domanda. Chi di voi non sa che cos'è l'accessibilità? Ok. L'accessibilità è garantire, appunto, come ho scritto nella definizione, garantire che una persona con disabilità possa usufruire di una risorsa. Che sia compilare un form, che sia acquistare un prodotto su internet, che sia anche semplicemente leggere una pagina web. Non è uguale a... Cioè, l'accessibilità non è l'usabilità. L'usabilità è... La definizione potrebbe essere fare qualcosa meglio. L'accessibilità è riuscire a fare qualcosa nonostante tutto. Questo è un messaggio che voglio sempre che passi. Tutte le volte che parlo di accessibilità, la gente mi dice, ah, io però non me ne curo più di quel tanto, non so se nel mio sito la gente riesce ad accedere. Qual è la percentuale delle persone che sto fregando in questo modo? Il valore che vi ho messo è un valore di stima dato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che dice che appunto c'è questa percentuale, che non vi dico perché è sbagliata. È sbagliata semplicemente perché nel web tutti i vostri utenti, ma proprio tutti, dal primo all'ultimo, sono persone disabili. Anzi, sono utenti disabili. Vediamo dopo il perché. E questa è una cosa molto forte che dico e cercherò di convincervi adesso di questa cosa. Anzi, aspetta, no, non andare avanti. Scusate, sto facendo un mente locale per cercare di ricordarmi che slide ho messo. Allora, perché dico questo? Semplicemente, allora, pensiamo a tutte le persone che hanno una disabilità. Pensiamo a persone come me, persone ipovedenti, cieche, persone che hanno una disabilità sensoriale uditiva. Poi ci sono le disabilità motorie, come per esempio chi non può usare un arto o non lo può usare in maniera efficace. Ci sono le disabilità cognitive che possono andare dall'autismo a deficit di memoria, carenze di attenzione. Ci sono poi tutta una serie di problematiche legate all'apparato vestibolare. C'è gente che sta male perché vede un'animazione, perché vede l'effetto parallax sullo sfondo e quindi può avere nausea, vertigini, vomito e così via. Ci sono persone che soffrono di convulsioni, quindi se gli mettete dei contenuti che lampeggiano potete veramente fargli del male. E questo è, se vogliamo, il famoso 15% che dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il problema è che spesso la gente non considera che ci sono tutta un'altra serie di fattori, come per esempio i dolori cronici, quindi artrite, artrosi, adesso non so se sia giusto parlare di questo, comunque se si tratta di dolori cronici, ci sono gli infortuni. Se uno si rompe un polso non riesce ad utilizzare il mouse nella maniera corretta o farà molta più fatica. Senza volervela tirare, è sufficiente che si scarichi la batteria del mouse o si rompa il touchpad e la persona non può utilizzare la tastiera. E quindi ci mettiamo anche i problemi tecnici. Poi che altro? Beh, c'è l'ansia, ci sono le fobie, io non so se qualcuno di voi si intende di marketing, ma non so se sia proprio l'ideale utilizzare come per un brand, non so, una mascotte, una bella tarantola pelosa, io non credo proprio che sia l'ideale. Questo perché ci sono persone che stanno male vedendo determinati contenuti, quindi anche questa è considerata una disabilità. Poi, beh, una delle grossissime, una grossa fetta di cause della disabilità ve lo portate in tasca, è il vostro smartphone. Faccio un passo indietro e vi racconto un aneddoto. L'altro giorno sono andato a prendere il treno, ero in stazione, c'è stato un... come possiamo chiamarlo? Un cambiamento di binario e l'altoparlante sul binario ha dato l'annuncio dicendo su quale binario bisognava spostarsi. Il problema è che di fianco stava passando un treno merci e io non ho sentito il messaggio, nonostante io ci senta perfettamente. Cosa faccio per dire? Anzi, vi faccio una domanda. Dove, in che luogo, dove fate i test dei vostri siti web e in particolare quelli mobile? Li fate in ufficio con le serrande chiuse, con la luce adatta, magari seduti comodi sulla vostra poltrona? E' vero? Ok. Ma, se voi ci pensate bene, i vostri utenti o persino voi, quando siete, quando navigate mobile, siete per strada, in mezzo, che so, al rumore del traffico, a un cantiere lì di fianco, siete magari con dei bambini in braccio e quindi dovete compilare un form con una mano sola, siete, che so io, sotto il sole e indossate magari anche un indumento chiaro che vi fa riflesso sullo schermo. Voi riuscite a fare quello che fate di solito anche in queste condizioni? Sì o no? Non sempre, perché ci sono alcune cose che sono più difficili da fare a livello di, proprio di mobilità. Lo vedremo dopo. Ci sono, per esempio, dei moduli da compilare che diventano molto più rognosi da fare se non ci sono determinati accorgimenti di accessibilità, ma voi non avete un handicap, voi siete, se vogliamo, tra molte virgolette, faccio anche i coniglietti con le dita, tra molte virgolette siete normali. Bonus. CEO. L'accessibilità aiuta anche nell'indicizzazione dei motori di ricerca, perché se ci pensate, gli spider dei motori di ricerca sono completamente ciechi, completamente sordi, navigano utilizzando, navigano programmaticamente, non hanno le dita, e in più sono delle macchine, non riescono a inferire delle informazioni dal contesto, se non appunto tramite degli algoritmi. Quindi, quando voi create delle pagine che non sono accessibili, di fatto state anche mettendo i bastoni fra le ruote a Google e agli altri motori di ricerca. E aggiungo anche che ci sono adesso tutta una serie di tecnologie che si stanno avvicinando a questo mondo, che sono gli assistenti vocali. voi non avete più bisogno di interagire con un'interfaccia tattile per dire al vostro frigo di fare una cosa, voi semplicemente lo dite e il frigo lo sente e lo fa. Però anche per questo avete bisogno di pagine accessibili. Adesso, quanto tempo ho? Quanto tempo ho? Quanto tempo ho? Ok. Questa è la slide? Scusa. Ah, quanto mi costo? Cosa? Quanto mi costa l'accessibilità? Perché la gente qui mi dice eh, figata, no, bello, voglio assolutamente mettermi a curare l'accessibilità del mio sito web e però mi dice dov'è la fregatura? Perché magari c'è roba da installare così? No. Tutto quello che vi serve è già nel vostro pacchetto. Semplicemente se siete sviluppatori utilizzerete i linguaggi web. Se siete dei designer utilizzerete le conoscenze che già avete. Semplicemente avete delle best practice. e se siete chi pubblica i contenuti chi gestisce i contenuti anche lì avrete delle best practice ma non servono librerie non servono aggeggi particolari. Una cosa che ci tengo a dire perché quando mi dicono sì ok ma fisicamente quanto mi costa l'accessibilità io non me lo posso dire perché dipende da che tipo di sito avete però vi posso dire che prima la attivate prima vi prodigate per rendere più accessibili le vostre pagine web e meno vi costerà. Questo perché se voi state costruendo un palazzo se volete inserire l'ascensore quando lo inserite quando lo avete finito che dovete spaccare giù metà della tromba delle scale oppure all'inizio quando lo state ancora costruendo. Quindi prima vi ci mettete e meglio è. questa è una cosa interessante mi è successo l'altro giorno ero in treno sempre e c'era questo ragazzo seduto davanti a me che stava smanettando col telefono e a un certo punto gli è partito a cannone un audio un messaggio vocale di quella che probabilmente era la sua ragazza e noi praticamente tutto il vagone si è fatto un'idea abbastanza chiara e pittoresca di quello che avrebbero fatto quella sera nel mentre che lui tentava disperatamente in tutti i modi gli scappava anche da questo con cosa con che cosa si collega semplicemente appunto con la trascrizione audio perché no adesso non vi sto dicendo che tutti i vostri messaggi vocali devono essere trascritti è semplicemente che ci sono persone che non possono sentire l'audio e una delle linee guida dice che bisognerebbe fare una trascrizione completa quindi se ci sono dei suoni che sono interessanti a livello informativo di trascrivere anche quelli perché questo perché appunto ci sono delle persone che non possono sentire questo audio ma queste persone non sono soltanto i chiamiamoli i non udenti cioè chi ha un handicap uditivo sono anche tutte quelle persone che non possono sentire l'audio per un motivo esterno quindi che si trovano su un treno affollato o in una biblioteca e non hanno le cuffiette e non possono ascoltare l'audio tra l'altro se ci fate caso spesso negli aeroporti nelle stazioni ferroviarie o anche nei bar ci sono i televisori accesi con i programmi mutati con i sottotitoli attivi perché c'è talmente sempre tanto casino e la gente non riuscirebbe comunque ad ascoltare quindi riscono comunque a seguire poi chi è che ne beneficia di una trascrizione sicuramente tutte quelle persone che non sono di madrelingua e quindi qui ci mettiamo i turisti ci mettiamo gli studenti che sono venuti in Italia per studiare che non sono appunto di madrelingua e possono integrare le informazioni che sentono con quello che possono leggere quindi un testo che oltretutto si possono anche tradurre che altro beh un'intervista anche anche soltanto di voci pese quanto peserà 50 mega dipendenza un po' del 50 80 mega chi me lo fa fare di scaricare 80 mega di un file quando sono in una zona dove per esempio il mio telefono non prende o per esempio quando ho finito i dati mensili ecco che diventa interessante fornire la trascrizione testuale di modo che uno che si trova in quella situazione può comunque accedere all'informazione e infine una trascrizione è un elenco se vogliamo di keyword e a Google piacciono le keyword e a voi piace che a Google piacciono le keyword non è vero? ecco oltretutto non sono keyword buttate là così a casaccio ma sono in un testo di senso compiuto quindi non verrete neanche penalizzati a livello di indicizzazione perché state tentando di fregarlo come che faccio? così vediamo già fatta? ok sì no vabbè questo è un format che utilizzo io di dire chi ne beneficia il test in questo caso il test è banale semplicemente voi fate partire senza l'audio e vi rendete conto che se non riuscite ad accedere all'informazione non è non è accessibile questo per scremare per esempio i video ci sono dei video dove hanno solo la traccia audio e tutto quello che viene detto viene detto a schermo quindi in questo caso si può soprassedere quanto mi resta da vivere? ok questo che slide è? ok ma non è quella vabbè infatti ma fa niente tanto ormai ho già capito come stanno ok le immagini allora quando si parla ho sentito oggi nel talk di stamattina si parla di icone di immagini si dice di aggiungere un testo alternativo che vi permetta di di convogliare di 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 inviare l'informazione all'utente che l'immagine non la può vedere adesso è abbastanza complesso come argomento non sto a trattare come si dovrebbe descrivere un'immagine dico semplicemente che deve essere un testo che dica qual è l'informazione per la quale avete messo l'immagine nella nella vostra pagina vi ho messo una un'ipotetica errore di risorsa non trovata però voi capite attraverso il testo alternativo che c'è scritto sotto comunque capite l'informazione che io volevo inviarvi e cioè che con wordpress potete utilizzare il pannello con il testo alternativo per inserire una descrizione di un'immagine chi ne beneficia beh praticamente tutte quelle persone che non possono vederlo e anche qui ritroviamo le persone con scarsa connettività le persone che hanno deficit visivi e e oltretutto anche i motori di ricerca perché il testo alternativo è un testo una descrizione associata programmaticamente ad una ad un'immagine e questo piace poi questi sono i collegamenti questa è una cosa che mi fa sbroccare tutte le volte la gente che mi mette collegamenti completamente insulsi che però nel contesto hanno un senso ma io saltando da un link all'altro con la mia sintesi vocale mi legge qui vai vai dove capite se se voi mettete nella vostra pagina avete un testo che si chiama tipo clicca qui per scaricare il programma e voi mettete il link su qui a parte che state facendo uno sgarbo a me che devo andare in giro a cercare il che cosa significa quel qui in più una persona per esempio un utente mobile ha una porzione un'area cliccabile molto più piccola se invece di clicca qui per scaricare il programma voi il link lo mettete su scaricare il programma capite che c'è già un pochettino più di spazio soprattutto per quegli utenti a mobilità ridotta quindi persone con handicap motori e persone utenti mobile inoltre ai motori di ricerca è particolarmente utile quando avete un link significativo perché si fanno delle ipotesi aggiungono delle informazioni alla pagina nella quale sta andando quindi tutto di guadagnato per voi questo cos'è? scusa? ah ecco questa è una cosa che la gente spesso sottovaluta perché di solito si dice è una cosa da sviluppatore a me cosa mi interessa di sapere che io come posso migliorare l'accessibilità di questo semplicemente provate a cliccare sull'etichetta invece che sul campo se il campo si attiva vuol dire che l'etichetta e il campo sono associati e quindi io quando entro nel campo col mio screen reader mi dirà campo di testo nome utente altrimenti mi dice solo campo di testo e io non so che cosa devo metterci dentro quanto tempo mi resta ancora? scusa lo riformulo con un checkbox alla fine il checkbox ha l'etichetta a fianco che dice accetto i termini di utilizzo che vorrai vendere la mia anima a satana e cose di questo genere se io entro nel checkbox muovendomi per esempio col tabulatore mi dirà semplicemente checkbox se non c'è l'etichetta associata cioè se è associata in codice se è associata visivamente beh a me non cambia niente perché io visivamente non questo è importante perché se voi state scegliendo il vostro nuovo widget per fare il form di contatto potete cambiare e sceglierne un altro e questo semplice test vi permette di capire se questa parte questo aspetto è accessibile quindi toccando sull'etichetta invece che sul campo e questo ho risposto alla domanda? ok e questo è particolarmente utile anche per gli utenti mobile perché chiaramente la porzione di schermo cliccabile è più grande e non si sbaglia cosa ne pensate? esatto io me lo vedo Nio che dice Morfeo dammi un attimo che tira fuori l'app e dice aspetta non capisco qual è la pillola rossa no semplicemente il colore è un problema se viene utilizzato come unico canale informativo questo perché? perché se voi mi dite i prodotti in rosso sono fuori stock io come faccio a sapere che sono in rosso? cioè nel senso devo andare dentro nel tool degli sviluppatori guardare la classe corrispondente vedere qual è l'esadecimale cercare di decodificare l'esadecimale questo lo faccio io che sono un informatico io non oso immaginare una persona che che è daltonica le persone daltoniche sono allora adesso vi do una statistica sono un uomo su 12 e una donna su 200 quindi è una percentuale rilevante il consiglio che vi do è quello di provare dei plug-in che vi permettono di simulare la la discromatopsia cioè appunto il daltonismo voi vi fate un giretto nel vostro nel vostro sito utilizzando esclusivamente il bianco e il nero e vedete se riuscite a capire di che cosa che cosa volevate dire con i colori ok questi sono gli strumenti utili sì perfetto ci stiamo dentro è giusto? che cos'è? ah ok quella che vi ho spoilerato prima qui vi ho messo alcuni strumenti che vi possono tornare utili sono innanzitutto le linee guida le WCAG che sono emanate dal consorzio W3C sono dei polpettoni di roba io vi consiglio veramente li tenete lì per consultazione e poi se vi trovate degli articoli online ce ne sono a bizzeffe per ognuno di queste linee guida trovate poi tutte le varie casistiche come potete metterli in pratica nel vostro sito vi ho proposto anche uno strumento per la validazione e qui spendo una parola giusto per dire che gli strumenti sono appunto strumenti l'aspetto umano è ancora assolutamente fondamentale perché lo strumento vi può dire per esempio a questa immagine non hai messo il test alternativo però se io quell'immagine metto come test alternativo bla 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 il test passa e io sono a posto però io non ne ho in tasca niente quindi il consiglio che vi do è fidatevi dei tool che comunque vi danno quando non riescono vi danno comunque degli stimoli vi dicono guarda che qui ho trovato questa cosa però non riesco a convalidarla io pensaci te e questo vale soprattutto anche per i tool automatizzati ci sono oggi dei crawler che fanno questo scansionano il vostro sito vi dicono ho trovato questi 200 errori poi però la gente pensa che così facendo il sito è effettivamente accessibile in realtà non lo è ultima cosa per quanto riguarda il colore voi dovete dare un contrasto tra lo sfondo e il il foreground come si dice il primo piano questo vale per il testo vale per le icone cioè dare un contrasto se ne hai parlato stamattina mi pare nel tuo talk ok in conclusione l'aspetto che volevo che passasse è che appunto l'accessibilità è un'opportunità chiaramente non posso toccare tutti gli argomenti perché sono centinaia non abbiamo tempo però quello che volevo darvi è semplicemente l'idea che voi con poco perché effettivamente almeno converrete con me che non è tanto quello che dovete fare si può fare tanto ci sono delle persone abbiamo visto che l'accessibilità contribuisce alla CEO contribuisce alla user experience ci sono delle persone che però fanno dell'accessibilità la possibilità di essere come le altre quindi di potersi trovare un lavoro di poter di poter essere qui a parlarvi a proporvi un talk e quindi io veramente vi esorto a voler curare l'accessibilità perché così facendo aiutate anche delle persone ad essere felici io vi ringrazio grazie a tutti grazie a tutti